Come miglior libero? Dici le tue impressioni. Allora, le mie impressioni? Sicuramente sono molto molto felice e soddisfatta perché comunque si ha un spettacolo. Non ci aspettavamo come squadra di vincere l'Europeo e non mi aspettavo sicuramente io un premio del genere. Però per me è stato molto molto bello soprattutto perché penso che forse sia il simbolo che si concludono questi due anni così un po' sfigati tra virgolette per me. Quindi spero che sia una partenza e niente spero di portare questo inizio anche a Buonavara che direi che quest'anno almeno. Io sono timido a Vincitori e sono per sogno. Questa intervista la conosci? E niente, adesso capisco che se ne dico ragazzi. Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, la Paoletta ce l'abbiamo noi.